Malgrado la Puglia sia zona bianca, cioè territorio considerato a basso rischio di contagio, diversi comuni, tra cui Lecce, Barletta, Brindisi, Locorotondo, San Nicandro, Garganico, Manduria, hanno adottato restrizioni, in particolare l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, per contrastare la diffusione del Covid. Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha firmato un'ordinanza a quella quale si impone l'obbligo di utilizzo della mascherina negli spazi aperti in diverse vie e piazze del centro cittadino, da sabato 11 fino a venerdì 31 dicembre. L'ordinanza si è resa necessaria, come spiega il Comune, in considerazione del fatto che, come da tradizione, in occasione delle festività, si prevede una massiccia presenza di persone in centro, richiamate, oltre che da attività commerciali e pubblici servizi, anche dai mercatini e da altre iniziative. Da venerdì 3 dicembre l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto vige anche a Barletta, ma solo nei fini settimana, dal venerdì alla domenica e lungo le vie principali del centro cittadino. L'ordinanza, firmata dal commissario straordinario Francesco Alecci, sarà in vigore fino al 9 gennaio 2022, con ordinanza contingibile e urgente. Anche il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha disposto l'obbligo delle mascherine all'aperto nel centro della città, dalla mezzanotte di mercoledì 8 dicembre alle 24 di venerdì 31 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 24. Sono previste sanzioni da 400 euro ad un massimo di 3.000 euro.